Il nostro obiettivo non è avere successo ma vincere l'Oscar del musical, è vero? Sì, assolutamente, ci chiediamo, siamo costernati del fatto che non siamo mai stati presi in considerazione nonostante cantiamo per un'ora e mezzo senza fine, parliamo, stiamo in piedi, facciamo delle coreografie tra cui anche di danza contemporanea molto spinta Siamo amati da tutti i più grossi giornalisti del musical che non stiamo qua a citare Eppure nessuna nomination, quindi io farei una categoria apposita negli Oscar del musical, gli scarti Accogliete questa nostra piccola preghiera, un'appetite preghiera Un'appetite preghiera Quest'anno andiamo anche a Sistina, se non ci cagate quest'anno